Siamo arrivati con l'acqua, ma guarda come c'è l'acqua, l'acqua c'è da mettere. Oh, finalmente questa Lugaposestiva ragazzi è finita, stavamo sclerando, siamo stati per troppo tempo alla larga dalle gare, quindi finalmente si riparte con una scalata del Treventino, giovedì sono quasi le 19, stiamo quasi per imbarcarci sul traghetto e vi daremo compagnia sul nostro canale YouTube in questi tre giorni da panico perché ci sono credo 211 iscritti, paganti se non diciamo una pesseria, quindi c'è molta carne sul fuoco, in questa prima crono scalata del CVM 2017. Se volete seguirla al meglio sui nostri canali vi invitiamo ad iscrivervi per l'appunto sul nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto perché in questi tre giorni pubblicheremo un bel po' di materiale, il primo video credo che riuscirò a pubblicarlo domani nel tardo pomeriggio, video delle verifiche, sabato pomeriggio vedrò di riuscire a caricare gli highlights delle prove e poi ovviamente lunedì con tutti i video delle gare e molte altre novità. E niente ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul nostro canale YouTube, lasciate un bel like sulla pagina Facebook, seguite il nostro Instagram e ci sentiamo al prossimo video ragazzi, a presto!